Nel primo tempo è successo che il Napoli è entrato in maniera importante per giocarsi la partita della vita e noi eravamo un po' troppo soft, eravamo un po' troppo convinti del nostro palleggio e non avevamo forse la stessa aggressività, la stessa cattiveria dei giocatori del Napoli. Anche nel primo tempo alcuni movimenti, soprattutto dei due centrocampisti, Vidal e Pepe, i due attaccanti, Matri e Vucinic, non c'era la giusta sincronia. Poi al primo tempo abbiamo sistemato alcune cose, però non poteva essere altrimenti perché non abbiamo preparato la partita con il Napoli in un'ora e mezzo alla borghesiana, per di più mettendo un giocatore come Pepe che ci fa l'esterno d'attacco in mezzo al campo, quindi ci sta questo. A fine del primo tempo abbiamo chiarito alcune situazioni, siamo tornati in campo che per noi è diventata la partita della vita e si è visto subito che la musica era diversa. Da questa Juve ha voglia di fare cose importanti, nel senso che vogliamo cercare di fare delle cose importanti per noi, per la solità, per i nostri tifosi. Lo possiamo fare solo attraverso il lavoro, questo è fuori dubbio, però sappiamo che per noi la stata è lunga, però so anche di poter contare su un gruppo di ragazzi che ha grandi valori morali. Napoli è una grande squadra, l'ho vista che è una grande squadra.